Amici di Live Social siamo tornati e abbiamo appena finito una bellissima intervista in compagnia di Chiara. Di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo raccontato un po' della nostra compagnia, la compagnia Il Gioco delle Parti e abbiamo visto di che cosa ci occupiamo. Quindi sia le attività della compagnia di per sé, quindi le commedie che stiamo allestendo in questo periodo e che abbiamo allestito in passato, e poi abbiamo parlato della nostra scuola di teatro che si svolge tutti i giovedì presso il Teatro Giulia di Barole. Abbiamo raccontato come funziona. Esatto, quindi se siete interessati basta andare a vedere l'intervista integrale che si trova sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio Veronica One, sulla loro pagina Facebook che si chiama Compagnia Il Gioco delle Parti e sul sito web www.ilgiocodelleparti.it non potete mancare. A presto, ciao!